Grazie Presidente, semplicemente ci è sembrato opportuno presentare questo emendamento per specificare ancora di più che l'obiettivo di questa delibera è far emergere qualcosa che fino adesso è rimasto sommerso. L'housing infatti non ce lo siamo inventato noi, lo abbiamo trovato all'interno di molte convenzioni urbanistiche, semplicemente citato con queste due paroline, invece noi vogliamo dare consistenza ad un lavoro che gli uffici dovranno portare avanti, che è già iniziato, che è soprattutto un'attività di ricognizione ma anche di controllo e di monitoraggio delle convenzioni urbanistiche che all'interno prevedono una quota di sul in housing sociale. Questo perché riteniamo che proprio perché l'housing è una misura che può aiutare, quindi sicuramente non è l'unica misura che questa amministrazione dovrà mettere in campo per prevenire l'emergenza abitativa ma è una che già ha a disposizione e che pertanto va sfruttata al massimo. Ci sembrava opportuno specificare nel deliberato che come abbiamo fatto per le convenzioni per esempio dei piani di zona, anche per queste convenzioni urbanistiche che contengono sul di housing sociale, l'amministrazione debba svolgere quello che è un suo dovere, quindi un'azione di vigilanza e di controllo. Grazie.